Donnarumma che è il nostro parentecicio Vi presento il pupazzo bianconero Pierino, il siciliano Oh, poi mi deve mandare un video Certo Breve lo faccio perché Alla Coppola? Alla Coppola C'era Fernando Coppola, ex portiere di Napoli Questo è bianconero e non è l'azzurro Perché la neve è bianca E' bravo, è il juventino mamma mia Quindi Anna Maria la farò diventare la juventina vita Quindi come si chiama Fernando? Questo si chiama Pierino Pierino, ok Pierino siciliano Ok, saluta Pierino Ciao Edoando, sempre Forza Juve